Ma ciao ram bam bam bambini Gam cam 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 Guardate Gam bam 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 bambini Oggi abbiamo la Kinetic sempre La sabbia magica da Spin Master Tu cos'hai lì? Ci abbiamo quella verde Quella azzurra Quella viola Quella a foschiaco Fuxia Quella a foschia Lì ho il set per cucinare E tu che scatai qui? Per costruire i castelli Devi farlo vedere ai bambini Per costruire il castello quanto pesa, aiuto! Un sacco? Si Ci sono un sacco di piccole cosine qui dentro La sabbia fucchia Fucchia La sabbia gialla Yellow Yellow Melati? Può vedere? No, vabbè Questa è quella sparta No, quella che la taglio con taglierino così facciamo tutto in modo che non abbiamo la sabbia dappertutto La minuscola, come faccio? Cioè, ma... Ma questo è più lungo di questa roba Cioè... Cosa? Sono piccoli Mi fa vedere, bambini, guardate Vai, fai i castelli, tartarughe, la panetta E anche un granchio! Ti mangia Io ho fiori Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Wow, l'hai tirato con il biscotto Bravo E' la fine di un biscotto, pensami E poi... Ah, una formina della torta sopra Vai, spaccatutto Spaccatutto Vai, spaccatutto E qui ho la crema La? Io ho però la crema La? Crema Crema Cosa? Crema! 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 È difficilissimo stare al mondo Ma non fa la forma È perché la devi riempire Cioè, se tu hai la sabbia fino qui come fare in... Oh mio dio Bambini Io non so che cosa aveva in testa Simone in questo momento ma niente di buono Che cosa pesa? La sabbia? Sì La sabbia per... Città La città La città La città Non pesa La sensuale di ultimo periodo Hai capito cosa è questo? Ma questo è per stendere l'impasto Lei l'avevo capito? Nooo Io non l'avevo capito E voi bambini l'avete capito? Ora che cosa facciamo? Che c'era sull'immagine, non cambia No, non l'avevo visto Non l'avevo visto Che c'era sull'immagine Stendiamo l'impasto Secondo te viene fuori? Che cosa? Certo Che bello! Guarda che bello! Guarda bellissimo! Si spacca Che cosa? Lo spacca Il ganchà Io faccio i biscotti adesso, vai Abbiamo steso tutto l'impasto Ora lo facciamo così, come ti piace ai bambini Buono, buono Oh Ok Ora Faccio un plum cake Wow Guarda che carino! Io faccio il ganchio da guardia Ok Faccio un altro tortino molto strano No! Si Certo Prego il contrario Tu hai fatto tutto al contrario oggi Boh Perché fai tutto al contrario oggi? Una giornata al contrario Ce l'hai? Un biscotto che non esce! Un biscotto! Guarda che bello bambini! Biscotto! Biscotta Biscotta Biscottata Un plum cake Biscottata al forno Wow Un cornetto di crema Wow Un cornetto alla crema Sì Ma perché non lo faccio anche un piccolo? Oh Oggi però farlo vedere ai bambini che malgranchi che hai fatto Ma lo devo fare dritto così Vai Ora Io apro un altro colore per fare i miei propiti e apro il giallo Uh Vediamo di non mischiare tutta la sabbia Dov'è il mio taglierino? Eccolo E' dal pianeta plena Ha riempito cosa? No Il taglierino è dal pianeta plena No Sì No Sì No Sì Bambini raccontate un po' Voi avete della sabbia etnetica a casa? Di Spin Master? Guardate che bella Mi sto facendo rabbiare E' profumata Questa sabbia etnetica E' buona E' buona Per cosa? Perché? Ma farlo sul tavolo! Lascia stare sto piatto E' molto più bello sul tavolo E' scivoloso Non mi piace Non mi piace Biscotto Brum cake Un altro biscotto Adesso devi girare il piatto però Così Oh Si è rotto male Vabbè 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 Faccio tutto Fallo Fallo sul tavolo Che si vede molto meglio Il castello Il castello Il castello non lo vorrei rompere Non lo fai il castello Oh no Un altro biscotto Ci mi fa 50 minuti Mamma mia che lentezza Vabbè E' vero che è lento bambini? Vedete anche voi Lento Lento Una stella Un'altra stella Lento 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 Dai bambini Noi scherziamo Scherzate anche voi Guardate che belle Ma Simone Si è distrutto E' rimasta sotto il castello Guarda Guardate Guardate No Maria Con la tua sabbia verde Non mi schiare Oh Aiuto Comunque Non è che si è No basta Guarda quante mi schiare Guarda quante mi schiare E' super morbida sta sabbia Oh L'ho già riempita Guardate Che cosa È questa Ma io ero Riempio la tartaruga allora La tua No Ma non Lee Ma io ho tutte le formine piccole Cosa devo fare? Niente Niente Tartaruga è quasi pronta Tartar 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 RUUGARUGARUGGARUGARUGARUGARUGARUZ Ragazzi Ti piace? Qua cosa. Ti piace nella mia tartaruga Si è vero è bellissimo ora faccio una tartaruga rosa e metto dentro che cosa bambini a voi piace il nostro video mettete mi piace lo so che un pochino noiosa ma perché noi stiamo divertendo guardate un po le figurine ma sono tutte fantastiche cioè non riesci a stare dietro una che vuoi fare già altra guardate carina è bellissima ora io distruggo tutto un po di psycho ecco cioè qua raccoliamo la sabbia gialla sabbia gialla sabbia fucsia distruggo tutto perché perché bambini ci vediamo nel prossimo episodio quando noi apriamo anche l'altra sabbia mettete mi piace e iscrivetevi al cacale al cacale al canale mettete like 2500 like e commentate anche ciao bambini ciao 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 ciao